Giocata, giocata! Ma no, ma guarda, ma anche quando l'ha ricevuta era regolare, anche quando l'ha ricevuta, ma va che era in bambicu schi. Cioè, questo era regolare addirittura quando ha ricevuto il pallone, cioè incredibile. No, ma poi l'abbiamo visto qua con la riga, con la riga della porta, bell'aria. Largo, largo, largo che va, largo che va, è gol, figlio, gol! Ma taglia sto prato, Eugenio, che per portarti avanti il pallone dobbiamo metterci due ore. Mamma mia che gol che si è mai dato. Sì, ma capisci qual è il problema? Che se non taglia il prato per portarti avanti il pallone, ti metti due ore. Hai visto che arba che c'è? È come lì? Ma fai giocare. E senti a cambiare i reti. Grazie, tanto, hai cambiato i reti, però... Sto facendo giocare dentro la sabana. Stai aperto. Oh, 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 oh! Cazzo di andare a distruparmi, eh! Viva, viva! No, ragazzi, no, no, mi, no, mi, no, mi, no, mi, no, mi, no. Ma lasciano lì, ma quant'è il pallone? Ragazzi, aiutatelo! Ciao! Ciao! Juno adesso! Arriva e arriva! Bravo! Bravo! No! Vieni, stiamo nella canta! Vieni, vieni, tieni nel pozzo! Dai, eh! Fabio, vieni! Dai, dai, stessa! Fabio! Fabio! Io stavo l'intanto! Fabio! Viva! Ciao! Via, via! Buona, via! Guarda! Stessa! Salta! Fabio! Dai! Bravo Flavio, dai, buona! Vai Mauri, vai Mauri, scusa, oh! Bravo, vai! Brava, brava, brava!